ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video decorazione agenda e questa è la settimana che va dal 19 al 25 di febbraio come al solito spostiamoci sulla scrivania e iniziamo a decorare l'agenda allora questa settimana farò tema folletti e inizio dagli washi allora vanno ad utilizzare questo che avevo preso da legami questo con le nuvolette con scritto dreams nuvolette con la pioggia e il cuoricino non so mi ispirava questo washi e userò questo slima azzurro per la divisoria dei giorni allora questa settimana vado a scrivere sempre i giorni con i timbrini i numeri invece li farò dentro questa nuvoletta utilizzo il tamponcino blu quindi con le sfumature dall'azzurro al blu e niente iniziamo quindi poi inizio a mettere anche le decorazioni quindi ho letto che utilizzo questi folletti che mi sono sono appunto gli ultimi arrivi di aliexpress e li farò con il nero col contorno nero perché poi vado a colorarli con i prismacolor vado col secondo foglio a lo a a a a a a a Grazie a tutti. Iniziamo appunto a scrivere i numeri questa settimana che va dal 19 al 25 e nel banner vado a scrivere appunto Weekend. E ora passo alla colorazione dei disegni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, ora vado a segnare i vari appuntamenti come al solito lunedì, mercoledì e venerdì carico video su YouTube. Per il momento è tutto, come al solito se c'è qualcos'altro poi lo vado a segnare e andiamo a mettere appunto la decorazione in agenda. Questa è la mia decorazione, spero tanto che vi piaccia. A me piace tantissimo, ho usato appunto i timbri dei folletti che mi sono arrivati da Aliexpress e che tra l'altro la ragazza appunto che mi aveva chiesto di utilizzare i clear stamp dei folletti è Spettrofoto, che saluto. Ciao Spettrofoto, ciao Spettrofoto e andate a vedere il suo canale perché tra l'altro ho aperto un giveaway quindi andate aiutatela a crescere. E niente, spero appunto che la mia decorazione vi sia piaciuta. A me piace tanto, vi ripeto, lasciate un bel like, un bel commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!